Salve, mi chiamo Fouad Dhammendi, sono artista e insegnante di teatro per bambini in una scuola primaria privata. Sono uno studente di lingua italiana nell'università Bida2 nel terzo anno. Mi sto preparando per partecipare a questo evento maggio dei libri e sono pronto. Grazie. La scuola. La scuola. La scuola. La calabria. La scuola. 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 Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info www.mesmerism.info